La figura imponente di Kurt Angle evoca immagini di arene scintillanti e applausi fragorosi, un simbolo di forza e resilienza forgiato da anni di successi nel wrestling. Tuttavia, dietro i riflettori si nasconde una realtà più oscura, la sua lotta contro la dipendenza. Nel mezzo della disperazione, il grido straziante di sua figlia lo ha costretto a confrontarsi con i propri demoni, un momento cruciale che ha trasformato il suo percorso sia dentro che fuori dal ring. Ma può davvero distinguere l'uomo dal wrestler? O il suo lascito rimarrà per sempre intrecciato alle battaglie combattute lontano dalle luci della ribalta? Oggi esploriamo la tragica storia reale di Kurt Angle. Kurt Angle. Onorare le sue perdite con la vittoria. Fin da bambino, il sogno di Kurt Angle era semplice. Vincere una medaglia d'oro olimpica. Ma non immaginava che questo lo avrebbe portato a molto di più. Dopo aver realizzato questo sogno nel 1996, Kurt ha vinto numerosi titoli nel wrestling professionistico ed è stato inserito nelle Hall of Fame di TNA e WWE. Nonostante le difficoltà personali, Kurt non si è mai arreso. Il suo percorso, fatto di alti e bassi, lo ha forgiato nella forza inarrestabile che conosciamo oggi. Kurt Stephen Angle è nato il 9 dicembre 1968 a Pittsburgh, Pennsylvania. Il suo viaggio nel wrestling è iniziato a soli 7 anni, quando ha scoperto il suo amore per questo sport. Tuttavia, la tragedia colpì quando aveva solo 16 anni. Suo padre, David Angle, morì in un incidente sul lavoro. David non era solo il padre di Kurt, ma il suo più grande sostenitore. Seguiva ogni sua gara di wrestling e partita di football fino al tragico incidente del 1985, quando cadde da una gru di 15 piedi. Nonostante le gravi ferite, riuscì a raggiungere l'ospedale, ma cadde in coma e morì due giorni dopo. Kurt affrontò questa perdita devastante, canalizzando il suo dolore nelle sue imprese atletiche e, la settimana stessa del funerale del padre, si distinse in una partita di football. Questo evento segnò profondamente Kurt, trasformandolo nell'uomo determinato e resiliente che sarebbe diventato. Nel suo libro, Kurt riflette su quel momento. «Sono cresciuto e ho superato le mie paure il giorno in cui mio padre morì. Mi sono promesso che sarei diventato un campione, a qualunque costo». Mentre era ancora al college, Kurt ottenne incredibili successi, vincendo due volte il campionato NCAA di Division I e venendo nominato All-American per tre volte. Presto la squadra olimpica si accorse di lui, ma poco prima delle Olimpiadi una nuova tragedia colpì, perse il suo mentore e figura paterna, Dave Schultz, assassinato. Schultz, anche egli vincitore di una medaglia d'oro olimpica, fu fondamentale nella preparazione di Kurt per i giochi del 1996, ma non riuscì a vedere il successo del suo allievo. Sia Schultz che Angle facevano parte del team Foxcatcher, finanziato dal ricco filantropo John DuPont, la cui salute mentale si deteriorò durante le preparazioni olimpiche. Il 26 gennaio 1997, DuPont sparò a Schultz, uccidendolo. Condannato per omicidio, DuPont morì in carcere nel 2010. Devastato, Kurt divenne l'unico rappresentante del team Foxcatcher alle Olimpiadi e, nonostante una grave lesione al collo, vinse la medaglia d'oro, dedicando la vittoria alla memoria del suo mentore. Dopo aver raggiunto l'apice del wrestling amatoriale, Kurt intraprese una nuova strada nel wrestling professionistico. Il peso della perdita di Schultz lo spinse a cercare nuove sfide. Da giovanissimo, Kurt Angle sopportò perdite che avrebbero spezzato chiunque. Dolori fisici, angoscia emotiva, ha affrontato tutto, ma ha sempre trovato la forza per andare avanti. Questa forza lo porterà al successo definitivo. O le cicatrici del passato continueranno a frenarlo? Scopriamolo insieme. Da lottatore amatoriale all'immortalità del wrestling professionistico. Kurt Angle ricevette un invito a un evento ICW il 26 ottobre 1996, ma la serata prese una piega inaspettata. Dopo un match, Raven, alias Scott Levy, mise in scena una crocifissione con Laurie Fullington, detta Sandman. Un gesto scioccante che portò Kurt a rompere immediatamente i rapporti con i CW, minacciando di fare causa se avessero trasmesso la sua immagine in TV. Tuttavia, anche la WWE era interessata a lui e gli offrì un contratto che inizialmente Kurt rifiutò, pensando che il wrestling professionistico non facesse per lui. Ma nel 1998, guardando Monday Night Raw, cambiò idea, affascinato dalle incredibili acrobazie dei lottatori. A quel punto si dedicò completamente al wrestling e Vince McMahon vide in lui un enorme potenziale. Firmò un contratto a tempo pieno nell'agosto 1998 e, sotto la guida di Dory Funk Jr., Kurt affinò le sue abilità, facendo rapidamente colpo nei circuiti di sviluppo. Il 11 aprile 1999 fece il suo debutto nel roster principale, battendo Brian Christopher in un dark match. Da subito Kurt Angle si rivelò un talento naturale, superando le aspettative di tutti e lasciando il segno sia nel wrestling amatoriale che professionistico a una velocità incredibile. La sua carriera televisiva iniziò ufficialmente al Survivor Series il 14 novembre 1999, dove sconfisse Shasta Sack, inaugurando una straordinaria serie di vittorie. All'inizio Kurt Angle doveva essere l'eroe perfetto, ma i fan dell'attitude era non lo accettarono. Lo trovavano troppo pulito. I dirigenti però furono intelligenti e cambiarono strategia, trasformandolo in un cattivo un heel, e Kurt fece faville. Dimostrò il suo carisma naturale e abilità al microfono, provando che poteva intrattenere tanto quanto sapeva lottare. La striscia di vittorie di Kurt incontrò un ostacolo alla Royal Rumble del 2000 quando affrontò il nuovo arrivato Taz. Nonostante la sua tenacia, Kurt perse. Ma succede. Si riprese in fretta e, nonostante un'altra sconfitta contro The Rock qualche settimana dopo, i suoi fan continuarono a sostenerlo. Sapevano che vittoria o sconfitta era una forza inarrestabile. Nel febbraio dello stesso anno, Kurt Angle conquistò sia il titolo intercontinentale che quello europeo, dimostrando di essere destinato a traguardi sempre più grandi. Poi sorprese tutti, mostrando il suo lato comico, formando un'alleanza con Edge e Christian. Ma Kurt non si limitava alle risate. Dimostrò di poter giocare al livello più alto, coinvolgendosi in un triangolo amoroso con Triple H e Stephanie McMahon guadagnandosi un posto tra i migliori. Questo consolidò la sua presenza nel mondo del wrestling, senza ombra di dubbio. I fan lo acclamavano, i colleghi lo rispettavano e Vince McMahon sapeva di avere una superstar tra le mani. In uno scontro epico, Kurt Angle vinse il WWE Championship per la prima volta, battendo The Rock a No Mercy il 22 ottobre 2000. Questo incredibile traguardo arrivò a meno di un anno dal suo debutto nel roster principale, dopo oltre due anni di allenamenti. Fu un risultato straordinario, ma Kurt dimostrò di essere all'altezza, difendendo con successo il titolo nei successivi quattro mesi. Addirittura vinse la brutale Hell in a Cell a sei uomini all'evento Armageddon di quell'anno, consolidando il suo status di vero campione. Durante questi intensi scontri, il personaggio di Kurt Angle subì una trasformazione. Mostrò un lato più serio e concentrato, guadagnandosi la reputazione di essere una vera macchina da wrestling. In un momento teso, minacciò di spezzare la caviglia di The Rock se non si fosse arreso alla sua Uncle Locke. Questo epico scontro culminò nel febbraio 2001, quando Kurt perse infine il titolo contro The Rock. Abbracciando il suo lato più oscuro, portò questa intensità anche nella sua rivalità con Chris Benoit, dando vita a spettacoli mozzafiato. Il loro scontro a WrestleMania 17 fu elettrizzante, seguito da un incontro ancora più intenso a Backlash il mese successivo. Entrambi i match lasciarono i fan senza fiato per la loro abilità e determinazione. In una serie di battaglie epiche, Kurt Angle affrontò Shane McMahon al King of the Ring in uno dei match più brutali della WWE. Il momento clou? Il tentativo fallito di Shane di rompere un pannello di vetro, schiantandosi invece di testa. Nonostante il momento cruento, l'abilità e la tenacia ineguagliabile di Kurt lo elevarono a un livello tale che persino il pubblico non poté fare a meno di applaudire la sua bravura. Durante le invasioni del 2001 della World Championship Wrestling e della Extreme Championship Wrestling, Kurt Angle si unì alle forze con le superstar della WWE per respingere gli attacchi incessanti dell'alleanza. In questo periodo turbolento formò un'inaspettata alleanza con Steve Austin, dando vita a momenti tra i più divertenti nella storia della WWE, dalla competizione per conquistare il favore di Vince McMahon all'indossare un cappello da cowboy miniaturizzato e cantare Jimmy Crack Corn, le sue esibizioni comiche divennero leggendarie, degne di una menzione nella Hall of Fame. Kurt Angle si affermò come il volto della fazione eroica della WWE quando Steve Austin scioccò i fan, passando al lato oscuro e schierandosi con l'alleanza nel luglio di quell'anno cruciale. In un colpo di scena elettrizzante, Angle conquistò il titolo WWE sconfiggendo Austin a Unforgiven il 23 settembre nella sua città natale, Pittsburgh. Tuttavia, subito dopo i tragici attacchi terroristici dell'11 settembre, Kurt fece una mossa inaspettata, passando al lato oscuro e unendosi all'alleanza a Survivor Series 2001. In un incontro ad alta tensione tra le promozioni rivali, la sua lealtà venne infine rivelata quando tradì l'alleanza e aiutò The Rock a ottenere la vittoria per la WWE. Nonostante le sue azioni eroiche, Kurt Angle si trovò a convivere con una reputazione da cattivo tra i fan, abbracciando questo ruolo, si vantava di aver sconfitto l'alleanza da solo, alimentando ulteriormente il risentimento del pubblico. Nel tentativo di riscattarsi, Angle partecipò a un torneo ad alta posta in palio a dicembre per incoronare il primo campione universale. Nonostante i suoi sforzi eroici, fu Chris Jericho a vincere il titolo. Dopo uno scontro con Kane, Kurt Angle intraprese una faida che lo portò a WrestleMania 18 nello stesso mese. Alcuni pensavano che fosse un passo indietro per un lottatore del suo calibro, ma le sue abilità non poterono essere confinate a lungo nel midcard. Dopo la divisione del roster, Angle passò a SmackDown e partecipò a un epico incontro Hair vs Hair con Edge a un evento pay-per-view del 19 maggio 2002. In una sorprendente svolta, Kurt perse il match. Accettò la sconfitta con sportività e scelse di radersi la testa, un nuovo look distintivo che avrebbe definito il suo personaggio per il resto della carriera. Un mese dopo, al King of the Ring, realizzò una vittoria senza precedenti. A Summerslam del 25 agosto affrontò Rey Mysterio in un incontro mozzafiato che lasciò i fan entusiasti. Con ogni scontro epico, il nome di Kurt Angle continuava a scalare le classifiche, attirando paragoni con leggende del wrestling come Bret Hart e Ric Flair. Forse una leggenda è in fase di costruzione. Nel 2002, Kurt Angle era al centro dell'attenzione del mondo del wrestling. Mostrò la sua abilità in due match epici che fecero parlare tutti. In coppia con Chris Benoit sconfissero Edge e Mysterio all'evento No Mercy di ottobre, rendendo Kurt il primo campione di coppia di SmackDown. Ma la sua sfida più grande stava arrivando, sotto forma di Brock Lesnar. A WrestleMania 19, Kurt Angle dimostrò grande coraggio, regalando ai fan un match memorabile. Tuttavia le cose presero una piega inaspettata, quando una mossa rischiosa di Lesnar quasi gli causò un grave infortunio, distogliendo l'attenzione dall'epico incontro. Entrambi i lottatori dovettero prendersi una pausa per riprendersi. Kurt affrontò un difficile recupero di un anno dopo un intervento al collo, ma grazie a un trattamento innovativo, ridusse il tempo di guarigione a soli tre mesi. Nel giugno 2003, Kurt Angle tornò sul ring, pronto a riaccendere la rivalità con Lesnar su SmackDown. L'apice dei loro scontri fu un adrenalinico Iron Man match di 60 minuti durante il diciottesimo episodio dello show. Ma non finì lì. Angle si trovò poi coinvolto in una dura rivalità con Eddie Guerrero. Quando Guerrero riuscì a sconfiggere Lesnar a febbraio 2004 per diventare WWE Champion, Angle divenne il suo avversario per WrestleMania 20. I fan di Kurt erano in fermento, certi che il suo match avrebbe rubato la scena a WrestleMania 20. Tuttavia dovette affrontare la dura competizione di un triple threat match tra Triple A, Shawn Michaels e Chris Benoit. Nonostante ciò, i problemi al collo di Kurt continuavano a perseguitarlo e dopo WrestleMania si prese una pausa per tornare in forma. Lasciò momentaneamente il ring per diventare general manager di SmackDown per alcuni mesi, dando un contributo alla gestione dello show. La sua vita, però, stava diventando sempre più complicata a causa della dipendenza da antidolorifici per alleviare i dolori al collo. Quello che era iniziato come una soluzione temporanea si trasformò presto in un problema serio. Nonostante le difficoltà, Kurt riuscì a vincere contro Eddie Guerrero a SummerSlam il 15 agosto 2004 e a scontrarsi con Big Show in un altro grande incontro. Nel 2005 tornò nuovamente in grande stile a SummerSlam. Poco dopo iniziò una nuova e avvincente rivalità con Shawn Michaels, culminata in un match da sogno a WrestleMania 21 che fu talmente spettacolare da essere eletto miglior match dell'anno dai lettori di Pro Wrestling Illustrated. Ma le sorprese non finirono qui. Kurt si scontrò anche con giovani stelle in ascesa, come John Cena, aiutandolo a consolidare il suo cammino verso il vertice del wrestling. Il 13 gennaio 2006, Kurt vinse una Battle Royale, conquistando il titolo di World Heavyweight Champion, aggiungendo un altro momento memorabile alla storia del wrestling. Tuttavia, dietro le luci della ribalta, Kurt combatteva una battaglia contro i suoi demoni personali. La sua carriera nel wrestling, insieme alla gloria olimpica, fu segnata da innumerevoli infortuni che lo portarono a una pericolosa dipendenza dagli antidolorifici. Kurt ammise apertamente di aver consultato più medici per ottenere prescrizioni in una disperata ricerca di sollievo. Nel 2006 affermò di essersi disintossicato, ma la lotta non era ancora finita. Il 29 maggio 2006, la compagnia prese una decisione importante, spostandolo nel neonato brand ECW. Alcuni interpretarono questa mossa come un tentativo di scuoterlo e costringerlo ad affrontare i suoi problemi. Tuttavia, Paul Heyman, l'artefice della rinascita dell'ECW, aveva grandi piani per Kurt, desideroso di reinventarlo come una vera e propria macchina da wrestling, ispirandosi alle arti marziali miste. Purtroppo, la carriera di Kurt subì un duro colpo quando, inaspettatamente, venne licenziato dalla W. Baba Louis il 25 agosto. Si vociferava che Vince McMahon, il grande capo, fosse preoccupato che un campione olimpico potesse andare incontro a una fine prematura sotto la sua gestione, causando cattiva pubblicità. Non è un segreto che la tendenza di Kurt abbia avuto un ruolo in questa decisione. Fu un colpo di scena scioccante nella storia di Kurt, che lasciò i fan a chiedersi quale sarebbe stato il suo futuro. Invece di arrendersi, Kurt tracciò un nuovo percorso per la sua carriera, approdando nel mondo della New Japan Pro Wrestling e della Inoki Genome Federation, dove disputò alcuni incontri epici. Uno dei momenti più importanti? La vittoria contro Brock Lesnar in quest'ultima federazione, che gli valse il titolo di campione della International Wrestling Federation. Ma il viaggio di Kurt non si fermò lì. In Giappone incontrò future leggende come Shinsuke Nakamura e Hiroshi Tanahashi, lasciando un'impronta indelebile nella scena del wrestling internazionale. Fu un nuovo capitolo nella sua carriera, ricco di sfide e trionfi, che mostrava la sua resilienza e determinazione nel proseguire nonostante le avversità. Dopo aver lasciato la compagnia di wrestling, Kurt trovò una nuova casa negli Stati Uniti, unendosi al roster della TNA. Il suo debutto del 19 ottobre 2006 scosse il mondo del wrestling, segnando probabilmente la firma più importante mai avuta dalla TNA. Tuttavia, dietro le luci della ribalta, la vita di Kurt era un vero campo di battaglia. La sua lotta contro la dipendenza da un pericoloso mix di farmaci minacciava di distruggerlo. Le conseguenze furono pesanti. Ben quattro arresti per guida in stato di ebbrezza tracciavano un quadro cupo. Tutto iniziò nel settembre 2008, quando un incidente con una donna in Pennsylvania lo mise nei guai. Ma non finì lì. Nel marzo 2011, la polizia del North Dakota lo arrestò per guida in stato di ebbrezza, costringendolo a scontare una pena in libertà vigilata e pagare una multa salata. Lo stesso anno, a settembre, la polizia della Virginia lo beccò di nuovo, ma fortunatamente il giudice fu clemente. Infine, nell'agosto 2013, TMZ riportò un altro arresto in Texas per guida spericolata dopo un evento della TNA. Nonostante non abbia subito conseguenze legali, Kurt prese una decisione coraggiosa, annunciando su Twitter la sua intenzione di entrare in riabilitazione. Fu un momento turbolento, ma la sua resilienza emerse mentre combatteva i suoi demoni con determinazione. Nel 2014, durante un'intervista a CBS, Kurt rivelò di aver affrontato una battaglia lunga sette anni contro un mix mortale di morfina, Xanax e alcol e di aver vinto quella battaglia solo l'anno precedente. Le sue 4-2 rappresentavano una dura realtà, culminata in quella notte fatale dell'agosto 2013, quando fu arrestato per guida spericolata in Texas. Kurt sapeva che era arrivato il momento di affrontare definitivamente i suoi problemi. Su Twitter annunciò con coraggio il suo ingresso in riabilitazione, chiedendo comprensione, preghiere e supporto dai suoi fan. Fu un momento di cruda vulnerabilità, un passo verso la guarigione e una testimonianza della sua resilienza. Sul fronte del wrestling, Kurt Angle fece storia in TNA, diventando il primo lottatore a sconfiggere la Samoan Submission Machine al pay-per-view Genesis il 18 novembre. Ma quello fu solo l'inizio del suo epico percorso. La sua rivalità con Samoa Joe divenne una delle più intense mai viste in TNA. Non contento di una sola vittoria, Kurt conquistò il King of the Mountain Match allo Slammiversary del giugno 2007, strappando il TNA World Heavyweight Championship a concorrenti formidabili come Joe, Christian Cage, AJ Styles e Chris Harris. Ma Kurt non si fermò lì. Poco dopo riuscì in un'impresa incredibile, vincendo ogni singolo titolo della federazione. Deteneva contemporaneamente il titolo 10 Division e entrambi i titoli di coppia. Durante il suo periodo in TNA, anche la moglie di Kurt, Karen, entrò in scena, aiutandolo a sconfiggere Samoa Joe e diventando un personaggio regolare sullo schermo. Kurt si unì anche a due potenti stable, l'Angle Alliance e la Main Event Mafia, ciascuna delle quali portò nuove sfide e vittorie. Tuttavia, proprio quando la carriera di Kurt toccava nuovi vertici, la sua vita personale subì un duro colpo. Karen chiese il divorzio. A questo si aggiunsero guai legali, gettando ombre sui suoi successi nel ring. E come se non bastasse, Karen si legò sentimentalmente al collega di Kurt, Jeff Jarrett, scatenando una complessa relazione sia sullo schermo che fuori, lasciando Kurt sconvolto. Nonostante queste difficoltà personali, Kurt continuò a ottenere successi nel wrestling, ma i suoi problemi personali iniziarono a emergere e i fan notarono un suo progressivo crollo. Anche se nel 2009 conquistò il suo quarto titolo mondiale a Slammiversary, le preoccupazioni per il suo benessere erano sempre più evidenti. I sostenitori temevano per la sua sicurezza, mentre sembrava soccombere sotto il peso delle sue lotte personali. Dopo un periodo difficile, Kurt riuscì a rialzarsi. Nel 2211 tornò in azione e si unì alla stable The Immortal, vincendo per la quinta volta il titolo mondiale TNA. Ma Kurt non si concentrò solo su se stesso. Si impegnò a dare spazio e visibilità ai giovani talenti all'interno di The Immortal, contribuendo alla crescita di nuove stelle del wrestling. Nonostante il suo successo, era chiaro che la sua carriera sul ring stava avvicinandosi alla fine, un'amara realizzazione per i suoi fan che lo avevano seguito lungo tutto il suo cammino. Il corpo di Kurt portava i segni di anni di battaglie fisiche e personali e gli infortuni, uniti alla dipendenza, avevano lasciato il segno sul campione olimpico. Nel 2211 così ebbe inizio il tour di ritiro di Kurt, una serie di battaglie epiche contro alcune delle più grandi star del wrestling, tra cui Drew McIntyre, Samoa Joe, Chad Gable e Apollo Crews. Fu un percorso ricco di alti e bassi, mentre Kurt Angle lottava con tutte le sue forze per riaffermare il suo posto nel mondo del wrestling. Fu un tour di addio leggendario. Avvicinandosi a WrestleMania 35, circolava un sogno condiviso da tutti, che l'ultimo match di Kurt sarebbe stato contro John Cena, l'uomo che lui stesso aveva introdotto al mondo del wrestling anni prima. Ma a volte i sogni non si realizzano. Invece di affrontare cena, Kurt si trovò di fronte a Baron Corbin nel suo incontro di ritiro a WrestleMania 35 il 7 aprile 2019. E non fu il gran finale che Kurt o i fan avevano sperato. La vittoria di Corbin sull'eroe olimpico fu deludente, lasciando un'amarezza tra gli appassionati di wrestling. Ma la verità è che Kurt stava combattendo più dei suoi avversari sul ring. affrontava anche un dolore tremendo ogni volta che saliva sul quadrato. E, sebbene non sia stato l'addio ideale, è una dura realtà della vita nel mondo del wrestling. Nonostante la delusione, il lascito di Kurt Angle come icona del wrestling rimane intatto, lasciando i fan a chiedersi cosa sarebbe potuto essere nel suo ultimo match. Dopo aver appeso gli stivali al chiodo, Kurt sembrava soddisfatto del suo ritiro. Assunse il ruolo di produttore dietro le quinte, occupandosi delle dinamiche dello show, almeno fino a poco tempo fa. A causa dei tagli dovuti alla pandemia, Kurt perse il lavoro. Ma non si è lasciato abbattere. La WWE gli offrì un ruolo come manager di Matt Riddle, ma Kurt scelse di concentrarsi sulle sue priorità personali. E chi può biasimarlo? Trascorre tempo di qualità con Giovanna, la sua seconda moglie, che è diventata il suo punto di riferimento. Insieme stanno crescendo una famiglia allargata di sei figli, quattro nati dalla loro unione e due dal primo matrimonio di Kurt. Ma Kurt non sta fermo. Ha investito energie nella sua azienda, Burn Dad Nutrition, che occupa gran parte del suo tempo e delle sue attenzioni. E anche se ha lasciato il ring, il wrestling resta nel suo sangue. Non sarebbe difficile immaginarlo tornare in qualche veste. Dopotutto, il wrestling è parte di lui.